Da Banche Etruria Ubi, un futuro da scrivere insieme. E questo è il titolo scelto per l'incontro pubblico organizzato dal Partito Democratico Provinciale in programma per venerdì 27 gennaio alle 17.30 alla Borsa Merci di Arezzo. Il tema è appunto legato alla questione delle banche e del credito. Il decreto che di fatto ha capitalizzato e salvato il Monte dei Paschi apre delle prospettive anche per i risparmiatori della provincia di Arezzo e clienti di Banca Etruria. In questo senso crediamo opportuno fare una riflessione per rivendicare come territorio unito, quindi come istituzione, sarà presente non solo gli esponenti del Partito Democratico ma anche il Comune di Arezzo e il Comune di Siena proprio per evidenziare che c'è un territorio unito su questa battaglia che è il territorio di Arezzo e il territorio di Siena che hanno ambedue gli interessi affinché i risparmiatori di Banca Etruria siano equiparati a quelli del Monte dei Paschi. In questo senso appunto il decreto del Monte dei Paschi va sostenuto perché apre questo spiraglio di possibilità. Ne parleremo appunto con il Presidente della Regione, con il Sottosegretario Baretta, oltre che con il Sindaco di Siena e l'assessore Merelli del Comune di Arezzo. Ecco, presente anche il Governatore Rossi che ha preso più volte posizione su questo argomento. Sì, il Governatore Rossi ha una posizione netta, anche forte rispetto a questo argomento, soprattutto nell'individuare anche le responsabilità del perché siamo arrivati ad una situazione finanziaria così drammatica sia per Banca Etruria che per Monte dei Paschi. Oltre che ovviamente sostenere, così come ha fatto anche il Sindaco di Siena pubblicamente, la richiesta di equiparazione. Tra l'altro sono giorni particolarmente importanti, sono stati presentati gli emendamenti al Senato, quindi magari anche la senatrice Mattesini e magari se saranno presenti anche gli altri onorevoli, Donati e altri del territorio potranno anche dirci qual è la loro attività e renderne conto ai cittadini. Grazie.